Il padre della videoarte, lo statunitense Bill Viola, torna a Napoli con una mostra pensata per la riapertura di un gioiello artistico della città, la chiesa del Carminello a Toledo, che per l'occasione riapre al pubblico. La mostra è curata da Vanitas Club e Bill Viola Studio, in collaborazione con l'Associazione Gioventù Cattolica. Bill Viola, ritorno alla vita, questo il nome dell'allestimento, comprende cinque videoopere, ma sentiamo Francesca Rondini della Vanitas Club. Lo scorso novembre siamo venuti, abbiamo avuto la possibilità di entrare per la prima volta alla chiesa del Carminello a Toledo, grazie ad Asso Gioca, e ci siamo innamorati subito di questa chiesa che era chiusa da tempo in memore. Abbiamo quindi deciso di proporre a Bill Viola di portare le sue videoopere all'interno di questa chiesa, perché avevamo già avuto un'esposizione di Bill Viola a Milano, con la quale avevamo aperto la cripta di Sansepolcro, che è un altro gioiello storico del nostro paese, che era chiuso da oltre 50 anni. L'artista è stato entusiasta non appena visto la chiesa e ha selezionato appositamente le cinque videoopere che potete vedere in mostra per la chiesa del Carminello a Toledo, quindi si tratta di un'installazione site specific che sarà visitabile dal 2 settembre fino all'8 gennaio.